Ciao ragazzi, ben ritrovati in questo video economico, come vedete c'è la tabellina Excel e quindi già qualcuno sarà lì, così diciamo eccitato, calmi, nel senso che ci sono quelli che quando vedono Excel subito, adesso ne parliamo, adesso vediamo un po' di cosette, di aggiornamenti, che voglio un po' comunicarvi sui conti dell'Inter, ma questo video, mi allargo un po' finché faccio l'intro, questo video voglio farlo soprattutto perché ultimamente con il discorso rinnovi di Barella, di Lautaro e altri giocatori ci sono i dubbi, o meglio i dubbi, ci sono gli articoli, ci sono notizi che mettono in giro dubbi, perché ecco, con i rinnovi bisognerà vendere giocatori perché il famoso obiettivo del meno 10, meno 15% di costi della rosa viene meno e quindi, ecco, voglio farvi vedere come funziona, voglio farvi vedere i numeri un po', come si comportano con questi rinnovi che stiamo facendo. Cosa importante da dire, prima di arrivare ai numeri dei rinnovi e eccetera, voglio darvi anche un po' di numeri sugli sponsor dell'Inter, gli accordi nuovi che abbiamo siglato in questi ultimi mesi. Voglio precisarvi, ci tengo a precisare che i vari valori sui contratti, gli anni del contratto, il valore del contratto oppure il valore dell'ammortamento o del residuo bilancio o degli sponsor sono dati direttamente presi dal bilancio dell'Inter, eccetto qualche calcolo che posso fare io su rinnovi di adesso che quindi sono in divenire e ovviamente mi baso un po' sulle cifre che si sentono e faccio i calcoli in base a quello, ovviamente, ma il resto è preso dal bilancio dell'Inter quindi non è che c'è il giornale che può essere più affidabile di queste robe qua, cioè io vado direttamente al bilancio dell'Inter, non si scappa ragazzi, il resto sono speculazioni. Ora, su questi numeri degli sponsor vi dico, per esempio, Socios ha un base fee di 16 milioni più bonus legati ai risultati, così recita il bilancio dell'Inter quindi potrebbero essere anche di più, in base ai risultati che non ci sono scritti, almeno forse sono delle note integrative ma dovrei leggermi veramente de tutto probabilmente sono risultati legati alla qualificazione, per esempio, agli ottavi, ecco perché è un obiettivo stagionale, no? Oppure al raggiungimento del quarto posto o dello scudetto o della Coppa Italia, queste robette qua. Quindi ecco perché è importante andare avanti. Quando io dicevo che passare i gironi della Champions e andare agli ottavi non è solo i soldi, i 9 milioni che ti arrivano dalla UEFA per aver superato i gironi ma sono una serie di altri soldini, tra cui una partita in più in casa e quindi biglietti tra cui sponsorizzazione in più, quindi premi degli sponsor aggiuntivi merchandising in più venduto una vittoria in più, almeno devi fare una vittoria in più perché per andare agli ottavi c'è bisogno che tu vinca nei gironi almeno quindi conta una vittoria in più del normale, sono altri 3 milioni cioè capite? Quindi alla fine sono 20-25 milioni che fruttano aggiuntivi all'Inter praticamente cash andando agli ottavi. Andiamo poi a un altro, a Digital Beats Digital Beats ha un base fee di 85 milioni divisi in 4 anni anch'esso più bonus. Questi qui sono sponsor che arrivano fino al 2025 2025 è la data di fine rapporto di questa sponsorizzazione mentre Lenovo per esempio ha un base fee di 5 milioni annui cioè ogni anno da 5 milioni, non credo, cioè credo senza bonus perché non ci sono scritti specificati bonus a contratto sul bilancio e questo è fino al 2024 però, quindi un anno in meno sempre al 2024, proprio recetissimo, è l'accordo con Moncler noto brand diciamo d'abbigliamento che vestirà la prima squadra fino al 2024 vorrei anch'io un Moncler ma non me lo posso permettere mannaggia, vabbè, comunque andiamo alla tabellina mi rimpicciolisco ragazzi così vedete un po' meglio e vi spiego un po' i numeri allora, andiamo un po' in su partiamo dalla parte fino al primo lordo poi dopo c'è azione, ecco fino al primo lordo è quello che era l'anno scorso lo scorso campionato che così facciamo il rapporto tra costi della rosa tra l'anno scorso e quest'anno le tre colonne dopo sono le guardanti quest'anno che sono uguali all'anno scorso per alcuni giocatori oppure diverse se abbiamo fatto dei rinnovi o delle cessioni o dei prestiti o delle cose diverse questo è la base allora Andanovic per adesso non si tocca ma potremmo andare a toccarlo più avanti perché se rinnova facendo il secondo perché arriva un altro portiere potrebbe anche cambiare lo stipendio Andanovic Radu, ok, lasciamolo dov'è Padelli è stato svincolato quindi è un leggero risparmio Brasau al momento è l'Inter lui si è rotto, poverino si è rotto in estate e quindi noi volevamo darlo in prestito cederlo eccetera eccetera invece sfortunato comunque non ho grandi notizie su di lui Devrai al momento rimane lì ma vediamo se riusciamo a rinnovarlo oppure no ma io mi affido cioè mi affido questa qui è la panoramica del presente cioè ad oggi Ranocchia ha rinnovato fino al 2022 e ho scoperto che c'è anche una piccola clausola per opzionarlo fino al 2023 volendo prolungare il contratto e da quello che so si è anche leggermente decurtato lo stipendio ovviamente i valori sono arrotondati ok, quelli che ho scritto io quindi abbiamo un leggero risparmio tra l'altro Ranocchia forse è stato mandato fino a anzi no senza forse di fatto non ci pesa più come ammortamento perché il rinnovo è scattato praticamente a fine contratto di Ranocchia cioè l'accordo l'abbiamo raggiunto a fine contratto di rinnovarlo ancora quindi abbiamo ammortizzato tutto il suo tutto il suo valore di cartellino di acquisto e di fatto quindi è a zero ecco a bilancio Skriniar Skriniar al momento rimane lì spero che si proceda sul rinnovo bastoni attenzione su bastoni ragazzi perché qui c'è una prima grossa novità allora lui l'abbiamo rinnovato praticamente raddoppiandogli lo stipendio quasi 3 milioni in realtà sono 2,7 ma con vari bonus che possono salire parecchio vabbè comunque mettiamo 3 di base attenzione perché subito si vociferava un rinnovo fino al 2024 cioè solo di un anno in più e quindi molti si sono sprecati a dire ecco è un rinnovo tattico per poi cederlo la realtà è che bastoni è stato rinnovato perché quello è il bilancio quello è quello che dice fino al 2025 quindi sono molto contento ma molto 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 contento per bastoni che abbia rinnovato di due anni il suo il suo contratto non di uno come sembrava all'inizio e questo ci indica il fatto che è un giocatore che l'Inter vuole tenere probabilmente gli ha offerto fino al 2025 non al 2026 perché così gli ha potuto dare qualcosa in meno di contratto perché di 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 ingaggio perché ovviamente più fai anni se uno è giovane più ti chiede perché il giovane può esplodere e se si lega tantissimo una squadra vuol dire che poi potenzialmente rinuncia a soldi che potrebbe avere magari altrove quindi funziona così se fosse un giocatore molto anziano più glielo fai lungo il contratto più ti chiede meno di di ingaggio funziona così il mercato ragazzi domanda offerta è questo Pirola va in prestito Kolarov si è ha rinnovato il contratto dimezzando lo stipendio fino al 2022 quindi molto bene e tra l'altro abbiamo anche l'ammortamento è andato a zero quindi questi qua sono tutti quanti risparmi attenzione per esempio Bastoni facciamo un attimo il calcolo perché ovviamente lui rinnovando fino al 2025 e non al 2024 ha praticamente dimezzato il suo ammortamento ok? annuale questo significa che prima fino all'anno scorso Bastoni ci costava annualmente una cosa come 9 milioni all'anno più o meno tra ingaggio lordo e ammortamento mentre oggi ce ne costa 9 all'anno capite cosa voglio dire ragazzi facendo i rinnovi e a volte anche raddoppiando lo stipendio può essere che il costo bilancio sia uguale perché è vero che raddoppi lo stipendio però è vero anche che dimezzi l'ammortamento non è sempre così con i valori dipende dai valori di acquisto dipende da quanto rinnovi lo stipendio eccetera eccetera però tendenzialmente ci sono queste due leve quindi l'Inter sborsa di più il livello di liquidità ma a livello contabile non cambia il peso di Bastoni quindi non è che aumentiamo i costi della Rosa avendo fatto rinnovo Bastoni assolutamente no quindi è un rinnovo molto buono dal punto di vista della contabilità perché tu ti preservi il giocatore quindi uno tuo asset per due anni in più quindi mantiene il suo valore lo leghi alla squadra lo puoi usare ancora ed è effettivamente un tuo giocatore ancora a medio e lungo termine ma non ti pesa di più di prima nonostante tu gli abbia rinnovato il contratto capite? andiamo su vabbè D'Ambrosio anche lui stessa cosa ha fatto un po' come Ranocchia insomma ha rinnovato ancora il contratto ma ha perso l'ammortamento perché praticamente è stato ammortizzato tutto fino all'anno scorso perché scadeva 2021 e attenzione che D'Ambrosio sembrava aver rinnovato fino a 2022 ma forse l'opzione era di due anni di rinnovo quindi è una cosa simile a Ranocchia forse Ranocchia è 1 più 1 D'Ambrosio è direttamente più 2 quindi può essere che D'Ambrosio sia addirittura legato all'Inter fino al 2023 e non solo per un'altra stagione fino a giugno poi magari che giugno possa liberarsi anche a zero perché l'Inter non lo so magari prendiamo un altro non è detto però insomma attenzione Darmian spieghiamo una seconda cosa di Darmian Darmian è stato preso dall'Inter con prestito più obbligo di riscatto e è cambiato l'impatto del suo stipendio lordo per quale motivo? perché l'Inter perché l'ha preso con obbligo? probabilmente l'ha preso con obbligo perché Darmian venendo prima dalla Premier aveva il decreto crescita giocando al cos'è? al Parma se non sbaglio abbiamo preso dal Parma se non vorrei non vorrei sbagliarmi adesso ho un lapsus incredibile comunque l'abbiamo preso e lui aveva il decreto crescita quindi cosa ha fatto l'Inter? ha detto beh teniamolo in prestito così è di proprietà del Parma e preserva il decreto crescita così prende meno di stipendio lordo e poi lo compriamo dopo quando gli scade il decreto crescita a Darmian così intanto almeno per un anno risparmiamo un milione di euro ecco questo è il motivo per cui Darmian non è stato preso subito ma in presto con obbligo di riscatto a 2-3 milioni quello che è stato quindi anzi dovrebbe essere proprio 3 milioni cioè l'obbligo di presto di 1 più obbligo di 3 una cosa del genere quindi l'ammortamento più o meno dovrà essere simile dovrà essere quello mentre lo stipendio lordo solo lordo aumenta di un milione proprio perché perde il decreto crescita perché adesso ha un nuovo contratto ed era e prima lui era già in Italia quindi non viene più dall'estero direttamente ma viene dal Parma quindi il lordo diventa diverso Young l'abbiamo perso D'Albert vabbè in presto è ok Di Marco al momento ci pesa veramente poco perché ha un ammortamento di un milione e prende pochissimo di stipendio ma l'Inter sta già operando sta già operando per rinnovare il contratto fino al 2025 o 2026 perché attualmente scade 2023 e dovrebbe essere un e mezzo netto che va a prendere quindi gli triplicano lo stipendio però vabbè è giusto così Di Marcos ma buon giocatore ci sta voglio dire no vi va io Inter a chi mi è stato ceduto quindi qua abbiamo ovviamente un risparmio a bilancio abbastanza importante annualizzato perché sono 14 sono quasi 15 milioni di risparmio tra lordo e ammortamento più una grande plusvalenza che conosciamo già Perisic io ho ipotizzato un rinnovo perché si parla continuamente di rinnovo a Perisic e ho cercato di mettere una cifra diciamo pseudo realistica ecco possibile poi vediamo se sarà vero così però come sapete in estate ho ipotizzato una serie di rinnovi una serie di manovre che poi sono state esattamente eseguite in maniera precisissima tipo quella di Pinamonti in presto con metà stipendio ecco è stato esattamente così quindi spero di prevedere ancora un pochino le mosse dell'Inter proprio partendo dai dati Perisic credo che l'Inter non voglia dargli più di 4 milioni netti a stagione se fa un rinnovo fino al 2024 cioè di 2 anni in più perché lui scade a giugno l'Inter non credo che gli possa dare 3 anni di contratto se si fa un accordo lo si fa per forse 1 o 2 anni quindi forse un biennale forse fino al 2024 però ha uno stipendio leggermente inferiore spererei anche un po' di meno perché per quanto stia facendo molto bene Perisic è un giocatore comunque che ha 33 anni e ha un ruolo molto impegnativo potrebbe anche essere che un giocatore così insomma può anche calare in maniera importante nel giro di un anno oppure pensi che si fa male e poi ti rimane per 2 anni con uno stipendio comunque molto alto comunque da semi top player no? quindi vabbè insomma comunque sono valutazioni mie in ogni caso se lo rinnoviamo a 4 milioni ha uno stipendio minore rispetto a prima in più l'ammortamento cala notevolmente e quindi avremo un risparmio non trascurabile di 2-3 milioncini alla fine sul bilancio Lazaro è in prestito e vabbè Brozovic ipotizziamoli anche anche a lui ipotizziamo un rinnovo di contratto fino al 2025 perché è quello che si vocifera un po' più o meno sui 5 milioni e mezzo netti ecco nel caso di Brozovic sì in questo caso abbiamo un peso a bilancio maggiore maggiore rispetto rispetto ad oggi perché lui avendo un costo bilancio come ammortamento molto molto basso se anche gli rinnovi il contratto di 2-3 anni e lo smaltisci ancora lo distendi ancora questo ammortamento non è che cala molto cala su qualche migliaio di euro centinaia di migliaia di euro quindi sostanzialmente i milioni invece che gli dà in più di lordo si fanno sentire diciamo che per esempio con questa manovra di rinnovo sia a Brozovic che a Perisic le due cose per esempio si bilanciano quindi il punto è se riuscissimo a rinnovare Perisic a ribasso verso magari anche 3 e mezzo per due anni praticamente andiamo a fare pari con gli esborsi aggiuntivi di un rinnovo a Brozovic quindi i due croati si mettano d'accordo Perisic se vuoi bene a Brozo e se vuoi giocare ancora con Brozo fai fatta pari patta no Gagliardini lasciamolo lì Vidal lasciamolo lì Barella attenzione ecco Barella l'ammortamento fino all'anno scorso era di 8 milioni o meglio sarebbe stato quest'anno di 8 milioni forse l'anno scorso era addirittura superiore perché c'era il prestito oneroso a bilancio più l'obbligo che abbiamo fatto adesso quindi forse c'è ancora l'obbligo oneroso comunque il prestito oneroso in ogni caso sarebbe stato 8 milioni l'ammortamento quest'anno con il rinnovo 2026 che è stato eseguito dall'Inter si passa praticamente a un ammortamento quasi dimezzato perché di fatto si raddoppiano gli anni che avrebbe avuto di contratto 2024 era la scadenza prima ora 2026 quindi due anni in più l'ammortamento cala abbastanza e soprattutto invece poi aumenta chiaramente lo stipendio perché da 2,5 passa a 4,5 che però i 4,5 applicandosi da novembre o dicembre in poi perché l'ha fatto adesso il rinnovo vuol dire che per 5-6 mesi gli hai pagato ancora lo stipendio che faceva riferimento ai 2,5 quindi totale quest'anno dovremmo pagare 4,5 ma 3,8 perché solo la seconda parte dell'anno prenderà questo aumento di stipendio da quello che ho capito gli anni successivi potrebbero guadagnare anche di più cioè è un 4,5 iniziale che potrebbe andare verso i 6 milioni netti nei prossimi anni però insomma attenderemo nel prossimo bilancio nuove note integrative vediamo se c'è qualche novità a riguardo o cifre più dettagliate in questo caso in ogni in ogni caso in questo caso prima barella ci costava fino a ieri diciamo ci costava 12 milioni e mezzo a bilancio annualmente mentre oggi ci costa uguale sostanzialmente ci costa praticamente la stessa cifra grosso modo siamo sempre lì come vedete come nel caso di bastoni avendo un ammortamento importante nel momento in cui vai a rinnovare si abbassa molto l'ammortamento anche se si alza lo stipendio i costi della rosa rimangono invariati ok giornaletti da strapazzo ci siamo su questo a livello di liquidità le cose possono un po' cambiare ma a livello di contabile a livello di bilancio di conto economico va bene cioè non è un problema capito non aumentano le spese non aumenta ecco le spese aumentano il meno 15 non è stato centrato adesso lo vediamo se non è stato centrato alla fine di conto facciamo il totale e lo vediamo subito se non è centrato il meno 10 o meno 15 Nengolan come sappiamo è stato ceduto minus valenza però abbiamo risparmiato l'ingaggio Gio Mario anche lì una cosa strana che non si è capito perché è la cosa legale ma anche lì abbiamo ceduto minus valenza però eccetera Sensi lasciamolo dov'è Eriksen è vero che ancora a bilancio a fine anno probabilmente faremo una minus valenza un po' di fuoco purtroppo ma attualmente almeno una bella parte dell'ingaggio non tutta ma una buona parte la paga la UEFA come assicurazione quindi ok Vessilo rimane uguale Sanchez rimane uguale Lautaro Lautaro Martinez stessa cosa per Barella di Barella grosso modo l'anno scorso ci costava una cosa come 10 milioni all'anno diciamo a bilancio tra l'ammortamento di 5,8 e lo stipendio lordo di 4,5 mentre da quest'anno ci costa 11 ha lievemente alzato il suo peso perché l'ammortamento cala in maniera notevole lo stipendio netto quest'anno raggiungerà i 4,8 perché stessa cosa vale per Barella mentre il posto è stato rinnovato ancora in estate ma Barella e Lautaro stati rinnovati ora quindi metà stagione sarà ancora retribuita con lo scorso ingaggio diciamo così e da poco invece partirà l'ingaggio nuovo quindi in totale Lautaro andrà a guadagnare 4,8 quest'anno che però ce l'hanno 6 più bonus l'anno prossimo ecco quindi l'anno prossimo ci costerà un pochino di più Pinamonti come dicevo infatti che poi si è materializzata questa cosa è andato in prestito con un un milione che rimane da pagare all'internetto all'anno mentre un milione lo paga la squadra l'Empoli in questo caso la squadra che lo ospita quindi anche qua ci avevo visto un po' giusto mi fa piacere che alla fine stia trovando anche un po' di continuità ci sta per Pinamonti speriamo che possa crescere e maturare ancora Lukaku è una una spesa in meno a bilancio di 25 milioni tra ammortamento e lordo e tra l'altro forse abbiamo risparmiato anche di più potenzialmente perché da quello che avevo un po' capito Lukaku aveva uno stipendio che andava a scalare a rialzo quindi in teoria quest'anno fosse rimasto all'inter avrebbe sarebbe pensato ancora di più perché quest'anno il suo stipendio netto sarebbe cresciuto tipo a 8,5 o roba del genere quindi o 9 addirittura quindi potenzialmente abbiamo risparmiato anche di più di 25 milioni però riferendoci all'anno scorso sono 25 milioni a bilancio e Sassedo vabbè ovviamente ragazzi poi ci sono anche altri piccoli giocatori Esposito Agume però hanno un impatto che è bassissimo a bilancio oppure che non è cambiato rispetto all'anno scorso ecco e quindi mettere più 2 l'anno scorso e più 2 quest'anno non cambia assolutamente nulla ho cercato di mettere le cose che sono variate ora poi c'è chiaramente il calciomercato che abbiamo fatto c'è Dunfriss c'è Correa c'è Cordaz C'è Lanoglu Dzeko Vanoisden questi sono un po' gli ingaggi Dzeko e C'è Lanoglu sono 5 netti 9,5 lordi Vanoisden l'ingaggio lo paga il Genoa l'ammortamento di 3,2 Correa l'ammortamento di 7,5 contratto di 4 anni di 3 milioni e mezzo netti e poi il Dunfro ragazzi 3 milioni di ammortamento con 2,5 netti che col decreto crescita nel suo caso sono solo 3,3 lordi in totale riferendoci all'anno scorso abbiamo 120 milioni di ammortamento di ammortamenti l'anno scorso contro gli 88 milioni di quest'anno quindi il costo rosa dal punto di vista degli ammortamenti è sceso abbastanza significativamente e invece il discorso sugli stipendi contro i 145 più o meno sono valori arrotondati dell'anno scorso lordi quest'anno siamo scesi leggermente compresi i rinnovi però contando i rinnovi a rialzo di Brozovic di di Barella e di Bastoni e di Lautaro cioè compresi i rinnovi quest'anno siamo a 139 milioni lordi il totale è che l'anno scorso il costo rosa era sui 266 più o meno e quest'anno è sui 227 più o meno ora anche solo a occhio per qualcuno che ha un minimo di senso matematico e sta proprio con la calcolatrice capiamo benissimo che in realtà i costi quest'anno sono diminuiti più o meno ripeto del 10-15% quindi il costo rosa non è aumentato ecco come qualcuno vorrebbe far credere con questi rinnovi e quindi ecco l'Inter deve ridurre ancora il costo rosa in stato perché ecco se ci saranno cessioni ci saranno per questioni di opportunità o perché qualcuno va verso la scadenza penso ad esempio a De Vrij che mi dispiace un sacco ma Minoraio la magari chiede un rinnovo esagerato e lui ha un anno di contratto e l'Inter vuole monetizzare cerca di non perderlo a zero e lo vende per esempio andando su un altro giocatore non lo so oppure occasioni di mercato a meno che non ci siano problemi legati agli stadi che richiudono altre cose che allora ci potrebbe essere una necessità di liquidità e quindi c'è bisogno di fare cessioni più per la liquidità che per il conto economico il conto economico è abbastanza stabile non dico che sia sanissimo però non è malvagio quest'anno considerate anche le grandi plusvalenze che abbiamo fatto circa 100 milioni di plusvalenze legalissime legittime non sono il male le plusvalenze dipende come le fai le plusvalenze se vendi a Kimi Lukaku per i loro valori consoni sono plusvalenze palesemente che vanno bene il problema è vendere Gagliardini a 60 milioni che uno capisce che è una plusvalenza che non va tanto bene e che forse bisognerebbe un po' vigilare ma in questo caso l'Inter non ha problemi e quindi tra le plusvalenze una riduzione comunque dei costi rosa che non equivale a una riduzione sul campo perché abbiamo visto che pur avendo ridotto i costi l'Inter è vincente ha superato addirittura l'obiettivo in fase in fase Champions e aumentando addirittura gli introiti sia per gli stadi aperti quest'anno sia per il passaggio di gironi quindi agli ottavi e sia per nuovi contratti di sponsor e quindi l'Inter dovrebbe stare abbastanza a posto quest'anno dovrebbe in teoria dovrebbe avvicinarsi al pareggio di bilancio quest'anno che non significa togliere i debiti prima vuol dire che quest'anno le spese con gli introiti mettiamola così sono sostenibili ecco facciamola molto semplice poi c'è un discorso legato al bond da rifinanziare che rifinanzieremo secondo me fra un mesetto o due perché di solito non si fanno operazioni incredibili sui mercati azionari a dicembre si fanno più con l'anno nuovo però insomma sono cose che vedremo successivamente e quindi ci aggiorneremo però volevo farvi stare tranquilli ecco l'Inter fa le cose per bene i rinnovi che abbiamo fatto ce li possiamo permettere quindi non c'è nulla di strano la decisione semmai è dire abbiamo dato troppo a questo giocatore oppure rischiamo io non darei più di tot al rinnovo di quell'altro che loro sono valutazioni più diciamo che hanno più gestionali più strategiche legate anche un po' al valore del giocatore secondo noi per il modulo per il gioco che usiamo però a livello di sostenibilità sono rinnovi e sono stipendi che possiamo permetterci come conto economico quindi ecco volevo ribadire a questo così state tranquilli e non vi fate prendere del panico leggendo cose o ascoltando gente che propone deliri non sapendo di cosa parla va bene ragazzi in alto vi saluto vi rimando a domani devo fare il pre partita domani non so neanche come farò perché è una giornata devastante a livello di tempistiche vabbè e poi forse stasera faccio anche una live su twitch con football manager visto che abbiamo fatto anche questa puntatina un po' economica football manager è un gioco gestionale sul calcio proprio fa il direttore sportivo di fatto stai attento alla tattica la gestione è tutto ma anche i contratti gli investimenti il futuro i giocatori lo scouting quindi è tutto quello che ci piace che vediamo su questo canale lo vediamo simulato in un gioco in live su twitch Hermes messaggero nevazzurro mi trovate sempre anche lì ragazzi vi saluto forza inter grazie per l'attenzione spero che siete arrivati in tanti fino alla fine condividete il video lasciate un like al video iscrivetevi al canale attivate la campanella e le notifiche perché così non vi perdete i video perché non basta solo essere iscritti bisogna anche attivare la notifica ragazzi la campanellina ecco le famose notifiche così vi arrivano il video appena esce tacati vi arriva un pallino sul telefonino e così sapete che ho pubblicato un nuovo video ragazzi vi saluto forza inter e a presto